Siamo in piazza San Francesco e con noi c'è, come ti chiami? Locia Lorenzo. Quanti anni hai? 67. E tu hai sempre vissuto qui? Diciamo no, da 81 che sono qua e cerco di lavorare come posso, insomma. Sei disoccupato? Disoccupato nel 2006. Per quale motivo? Hai perso il lavoro? No, è che forse l'età, non so. Cosa facevi prima? Io ero aiutando il cuoco. E come mai sei qui stamattina? Tramite gli amici che erano stupiti, sto schifo, io faccio il giardiniero a tempo perso e riesco a guadagnare qualcosa per sopravvivere, insomma. Arrivare alla fine mese, poche parole. E chi ti ha chiamato? I negozianti? Sì, vedi quello là, il gelato lì, che è inaugurato, il mio amico Vincenzo, di cui ho messo le piante a lui e così via. Oggi che lavori stai facendo qua? Pulizia di giardinaggio, roba che ci vogliono due o tre persone per pulire in un giornato, dovrei finire per domani. E che situazione hai trovato qui? Lo schifo, più chiate, mondizie, erbacce, crescita delle piante che vanno potate, insomma un po' di ordine. Hai ricevuto già altre offerte per altri lavori? Veramente io per condomio, diciamo conoscente, riesco a fare sempre qualcosa all'anno e sono sempre richiesto diciamo nel senso buono.